Caro amico ti scrivo, così mi distraigo un po', e siccome sei molto bontano, le forze ti esprimono, e quando sei partito c'è una grossa moglie in te. La nuova è che è finita, ma è qualcosa ancora che mi sembra. Fesce poco la sera, è compreso quando è festa, c'è chi ha messo dei sacchi di sacri vicino all'angelesa. E si sta senza parlare per intensi settimane, e da quelli c'hanno niente da dire, nel tempo non è finito. Ma la televisione ha detto che non volerà, portarà la trasformazione, tutti quanti stiamo già rispettando, e da chelli c'è chi ha messo dei sacri vicino all'angelesa. Anche tutti potranno parlare, mentre i soldi già lo fanno. E se farà l'amore, ognuno può vivere. Anche i preti potranno spossarsi, ma soltanto a certità. E senza grandi distrugge, qualcuno sbaglia. E se faranno forse il troppo fuori e i cretini di realtà. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico? E che io sono contento di essere qui in questo momento. Vedi caro amico, cosa si deve intentare. Per diventarti sopra, per continuare a sperare. E se questo non può passare, siamo distante. Grazie a tutti Grazie a tutti